Quattro persone ritenute responsabili a vario titolo di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato sono state deferite all'autorità giudiziaria dai carabinieri della compagnia di Salerno nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Salerno. L'altra sera i carabinieri della sezione radiomobile nel corso di un controllo alla circolazione stradale hanno controllato un'autovettura con a bordo due giovani rinvenendo nell'abitacolo 50 grammi di hashish. Uno dei due ragazzi è stato deferito in stato di libertà per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E sempre a Salerno i carabinieri della stazione principale hanno deferito in stato di libertà un 45enne pregiudicato che nei giorni scorsi si è reso responsabile di due furti. Il primo all'interno di un condominio dove ha asportato un monitor, il secondo all'interno di un ristorante dove è riuscito a portare via dopo aver forzato la porta d'ingresso diverse bottiglie di vino e altro materiale rinvenuto in possesso dell'uomo all'atto del controllo. Durante i servizi sul territorio i carabinieri hanno individuato e deferito all'autorità giudiziaria anche un pregiudicato 50enne del luogo sottoposto alla libertà controllata che è stato sorpreso fuori dall'abitazione di residenza senza alcuna autorizzazione. A Vietri sul mare i carabinieri della locale stazione e del nucleo cinofili hanno deferito in stato di libertà un 27enne del luogo che nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di quasi 3 grammi di cocaina oltre alla somma di 35 mila euro in contanti che è stata sottoposta a sequestro.